ehi tom come va? hai una perdita da riparare? ma dov'è il veicolo che perde? nella tua officina di verniciatura per caso stai lavorando anche su una trasformazione? tyson sei tu ad avere la perdita e mi dicono che ti stai anche facendo trasformare ma sembra che tom voglia riparare quel buco nella cisterna prima perfetto e adesso si passa alla trasformazione di tyson ma che idea stupenda tom se trasformi tyson in iron man l'uomo di ferro di sicuro non avrà mai più perdite iron man è rosso non è vero hai ragione tom tyson avrà bisogno di occhiali per proteggere gli occhi la vernice rossa sembra bellissima ma iron man ha anche alcune parti d'oro hai della vernice d'oro tom non potresti farne tu un po' lingotti d'oro che cosa hai intenzione di farne tom oh capisco scioglierai i lingotti d'oro per ottenere il colore oro stupefacente hai preparato della vera vernice d'oro qual è il prossimo passo tom ancora un po' di vernice d'oro sulla pancia di tom ovviamente iron man ha delle strisce dorate anche sui lati oh fa solletico non è vero tyson direi che sono perfette però manca qualcosa cosa potrebbe essere mi chiedo giusto tyson ha bisogno di raggi repulsori come quelli di iron man tyson ha cinque ruote su ogni lato quindi ti serviranno dieci luci in totale la trasformazione di tyson è completa tom che cosa hai anche un uniraggio come quello di iron man ma è fantastico è qui che lo tieni tyson sei pronto per il pezzo finale e più importante della tua trasformazione sembri impressionante tanto quanto il vero iron man tyson è ora di andare a vedere se sei anche altrettanto potente è stupefacente tom dovresti essere veramente orgoglioso di te stesso vai così iron tyson ehi marley che numeri stai facendo alla guida stai andando da qualche parte o ti stai semplicemente divertendo ti stai dirigendo verso l'officina di verniciatura di tom eccitante ti farà assomigliare all'incredibile è incredibile Hulk beh in verità sei già abbastanza incredibile quindi sembra il travestimento ideale attenzione a come entri nell'officina marley sei bello grosso sai così va meglio potremmo vedere la trasformazione di marley ora tutto pronto per cominciare naturalmente ha bisogno di occhiali protettivi fantastico ora che si fa hai ragione l'incredibile Hulk è incredibilmente verde vediamo che colori di vernice hai rosso blu giallo bianco e verde pronto per la trasformazione marley tom dove sei eccolo la e sembra che abbia trovato per marley delle nuove incredibili ruote a cosa serve quella vernice viola tom hai ragione l'incredibile Hulk indossa pantaloni viola credo che avrai bisogno di un pennello grande per questo lavoro tom grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti wow hai un aspetto fantastico Marley ma forse dovresti sembrare più arrabbiato un aspetto oh sono perfetti non sei d'accordo Tom? sembri identico all'incredibile Hulk ora Marley che bel lavoro attento Marley non dimenticare che sei Hulk ora dovrai abbassarti un pochino per uscire santo cielo Marley non solo assomigli a Hulk ma sei anche forte come lui ma per fortuna non sei così arrabbiato grazie a tutti